Ultimi giorni di serrati confronti e discontri per la scelta dei candidati alla Presidenza della Regione che si intrecciano inevitabilmente con le candidature al Parlamento. I giochi sono stati chiusi al momento solo nel Movimento 5 Stelle con Antonio Federico alla Regione e con la scelta fatta online dei candidati alla Camera e al Senato. Scontata anche la ricandidatura di Michele Eorio al vertice della Regione, ma il Presidente darà una forte spinta al Progetto Sud lanciato da Silvio Berlusconi con i governatori del Mezzogiorno ma senza candidarsi al Parlamento. Eorio infatti ha partecipato al vertice nazionale del PDL insieme a Raffaele Fitto, Gianfranco Micciche, Clemente Mastella e agli altri Presidenti delle Regioni Meridionali e si è schierato con il Cavaliere senza se e senza ma. Su fronte opposto Roberto Rute e Danilo Leva lavorano anche di notte per tentare di ricucire lo strappo tra Paolo Frattura e Massimo Romano, ma l'impresa appare ardua se non impossibile. Intanto proprio Massimo Romano ha ricevuto il sostegno deciso e convinto per la sua candidatura alla Presidenza dal leader del Movimento Arancione Luigi De Magistris. Al Molise serve un uomo che sappia gestire la crisi di un capitalismo in progressiva implosione e per questo, ha fatto sapere il Sindaco di Napoli, la Regione deve decidere come sopravvivere per mantenere una propria identità. Massimo Romano, ha concluso De Magistris, è l'unica novità che rappresenta contenuti solidi e discontinuità dal passato. Nelle ultime ore però, negli ambienti del centro-sinistra, è circolata con insistenza l'indiscrezione secondo la quale il noto avvocato Giovanni Di Lembo potrebbe rappresentare l'alternativa a Romano e a Frattura per ricompattare la coalizione. I vertici del PD, Leve e Ruta, avrebbero chiesto due giorni di tempo per verificare la fattibilità dell'operazione, ma sembra che Paolo Frattura non sia affatto disponibile a fare un passo indietro. Nel panorama complessivo resta da definire anche la posizione dei centristi UDC, ADC e Udeur che potrebbero puntare su un proprio candidato, mentre appare scontata la presenza del sesto candidato presidente in rappresentanza della lista Rivoluzione Civile di Antonino Ingroia. Insomma, la partita è ancora aperta e forse si chiuderà solo nel corso della prossima settimana.